secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie sto veramente in tanti a buttarmi giù dai che andiamo a guarda un po ci ha segnato una medaglia ragazzi ragazzi se succedeva una roba del genere ragazzi se succedeva una roba del genere ragazzi piano se succedeva una roba del genere non lo so è merda merda ok meno male andiamo non mi fa vedere le sfide vabbè lol lascia perdere andiamo signori questa partita la vinco io la vinco io porco diiii ma com' oh raga ma cosa mi ha fatto cinque dink su cinque sa ah esatto ragazzi vi ricordo una cosa importante eh se in questa season usate il codice xuderone quando shoppate il pass è molto probabile che la vostra prossima spesa all'esse lunga abbia il 62 per cento di sconto merda 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 ma non è già da giocare nooo eeeeeee eeeh 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 notevolmente a favore di tutti gli omosessuali ovviamente parlando sempre in forma maschile mi raccomando valutate bene concentratevi e prendete la vostra decisione non abbiate paura di esprimerla, più figa per noi andiamo sono super focus oddio xeren il mostiere marrano grazie per aver portato 5 mozzi sulla mia bagnarola vieni con me a bere un po' di grog e a guardare le donne dai facili costumi grazie grazie un secondo però ma porca tro ma che cazzo ma no questo è diverso ma che cazzo esistono 14 differenti sezioni dello shop dedicate a star wars mannaggia la mannaggia allora la season finisce il 3 novembre mi state dicendo adesso verifichiamo che sia tutto corretto dunque a me dicono il 10 nove già vorrei urlare una bestemmia in questo momento ma come sono morto scusatemi pompa prendo lo spazio e prendi sto cazzo di spazio un secondo ciao it's me danny io io it's me danny 18 mesi 18 mesi un anno e mezzo danny merzia andiamo non tala di fare casino niente non ce la fa figa hai ragione nettuno vabbè ci gli lascio l'antenna loro poi ti salvo si ma le stanno le stanno venendo a pushare con l'impulso ah per quale motivo è morti un altro rimbala pushati che è successo si è bagata la zipline nettuno vai vai e comunque ho arrancato a diamante 1 iiii iiii ho arrancato un botto nettuno ma metto preparati ho preso la zipline si è baggata col dito mignolo se la grattava arriva franco marito pazzo gli toglie il dito gli metter cazzo Ernesto è ancora mutato niente è ancora mutato l'Ernesto cosa sta facendo impulso extra un paio di cover extra vi ricordo che abbiamo la crown abbiamo avuto il game di prima c'è gente porco di quel diaz cristo di dio e che cazzo porca troia non si sa provare a ballare perché ti insulto la famiglia porco di e lui è porco di e non so come fa a non uscirmi dio cioè lui mentre cammina fermo ci prende con tutti i colpi ma come cazzo è possibile ma come cazzo è possibile ma cristo ma vi rendete conto cristo raga questo qui ma dammi calmo merda faccio merda è il grande trick aspetta merda nessuno sa che io sono qui raga no 5 di vita